buongiorno amici di youtube benvenuti al canale maiho oggi vi lascerò un brevissimo video per condividere con voi un'informazione molto utile io ogni volta che vado in posta vedo sempre un sacco di gente che aspetta 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 più di mezz'ora a volte anche più di un'ora e mi dispiace perché in realtà molti non sanno che è possibile scaricare l'app ufficio postale questa qua e prenotare il vostro numerino attivate il gps e in automatico vi cercheranno l'ufficio postale più vicino al punto in cui vi trovate quindi potrete cercare quello vicino a casa vostra quello vicino al punto in cui siete in qualsiasi posto basta accendere il gps o inserire la vostra posizione e potete scegliere a seconda delle operazioni che dovete fare bollettino raccomandato telegramma lettera vedete prenota il tuo primo ticket scegli ufficio postale calice cerca località attivare geolocalizzazione ok vedete automatico qua io ho attivato il gps mi troverà l'ufficio postale più vicino alla zona in cui mi trovo voi potete selezionare quello che in testa ad esempio ad esempio vediamo un attimo stiamo girando per Milano in questo momento è chiuso vedete sono le 3.21 questo ufficio postale chiude alle 1.35 proviamo un altro come questo è un esempio per farvi vedere vediamo qua questo anche questo è chiuso vediamo per tutti quelli che chiudono presto questo che ha aperto ad esempio vedete dalle 8.20 alle 19.05 clicco qua sul ticket e mi chiede il tipo di operazione che voglio fare la seconda dell'operazione io scelgo ad esempio qua paga 20 prelievi adesso sono le 3.22 non posso più scegliere per le 3 ma delle 16 in poi ad esempio faccio 16 mi da 16 16 un quarto 16.30 adesso non me lo da perché magari sono finiti i posti 16.45 facciamo 16 un quarto conferma ok quando arriviamo all'ufficio postale dobbiamo posizionare questo davanti al nostro lettore e in automatico vi chiameranno qua se volete l'app vi avviserà 15 minuti prima dell'appuntamento se volete potete aprire l'app e controllate da qua altrimenti potete fare uno screenshot vedete avete già il codice non dovete ricollegarvi all'applicazione non dovete più attivare internet il vostro numerino sarà F71 quando arriverete lì vi chiameranno a partire dall'orario che avete scelto voi se voi arrivate alle 16 ad esempio è troppo presto non vi chiameranno se arrivate alle 16.10 la stessa cosa loro vi chiamano dalle 16 un quarto in poi quindi se non volete le code non volete aspettare notte in mente prendete il vostro numerino attraverso l'app e arrivate giusti giusti niente attese niente giornate perse e basta tutto qui vi ringrazio grazie a tutti quelli che mi stanno seguendo grazie a tutti quelli che sono passati qua per caso grazie a tutti quelli che visualizzeranno questo video e anche a quelli che metteranno like vi saluto un bacione e alla prossima ciao ciao